Dal 1 gennaio 2021 è possibile accedere ai bonus disagio economico che saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini e ai nuclei familiari che ne hanno diritto. I cittadini non dovranno più presentare domanda presso i comuni o i CAF per ottenere i bonus per disagio economico relativamente alla fornitura di energia elettrica, di gas naturale e per la fornitura idrica. Ai cittadini, nuclei familiari aventi diritto verranno erogati automaticamente, senza necessità di presentare domanda, il bonus elettrico per disagio economico, il bonus gas, il bonus idrico. Per ottenere i bonus per disagio economico, pertanto, sarà sufficiente richiedere l'attestazione ISE. Se il nucleo familiare rientrerà nelle condizioni che danno diritto al bonus, l'Inps, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy, invierà i dati necessari al sistema informativo integrato, gestito dalla società acquirente unico, che provvederà ad incrociare i dati ricevuti con quelli relativi alle forniture di elettricità, gas e acqua, consentendo l'erogazione automatica del bonus agli aventi diritto. Non verrà invece erogato automaticamente il bonus per disagio fisico, che continuerà a essere gestito dal comune o dal CAF. Per l'accesso al bonus per disagio fisico, nulla cambia dal 1 gennaio 2021. I soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali dovranno continuare a fare richiesta presso il comune o i CAF delegati. Si precisa che i bonus in corso di erogazione al 31 dicembre 2020 continueranno a essere erogati con le modalità oggi in vigore.